Entro il 31 gennaio il Comune, con regolamento da adottare e comunicare entro tale data all'agenda della riscossione, poteva decidere di non applicare lo stralcio parziale per i carichi affidati dai Comuni agli agenti della riscossione di importo residuo fino a 1000 euro, relativo all'annullamento automatico di interessi per ritardata iscrizione al ruolo, interessi di mora e di sanzioni, rimanendo dovuti gli importi per capitale e per rimborso delle spese per procedure esecutive oltre che per la notifica. Per le contravvenzioni del Codice della Strada, invece, vengono annullati solamente gli interessi e le spese delle procedure esecutive della notifica. Si trattava di una facoltà e riguardava i debiti tributari fino a 1000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Considerati i tempi previsti dalla legge per l'iscrizione al ruolo nella migliore delle ipotesi, si sarebbe trattato di imposte e tasse relative al 2010. Con riferimento a tali importi, le capacità di riscossione dimostrate dal concessionario della riscossione resta inferiore al 2%. L'amministrazione ha ritenuto che l'adesione potrà spingere i contribuenti a regolarizzare finalmente la propria posizione.